Il campo basso calcio Un incontro importante e sicuramente significativo per un primo contatto necessario con la piazza. Lo stesso Gesue ieri è stato presente all'allenamento della squadra e si è intrattenuto con un gruppo di tifosi curiosi di conoscere il nuovo proprietario del lupo. Come possiamo vedere nella foto, Gesue ha garantito agli appassionati di voler rinforzare la rosa con tre e quattro elementi di prima fascia. Sul calciomercato firma anche Cristian Fabriani, terzino fuori quota, nella passata stagione al Notaresco. Si è raffreddata la pista Ricciardo, le pretese dell'attaccante sono aumentate anche per la concorrenza sul suo nome. Ecco perché possiamo dire che salvo cambi di scenari la trattativa è saltata. Il nuovo nuovo è quello dell'ex collega di reparto proprio di Ricciardo, ovvero Danilo Alessandro. Per lui 18 reti a Cesena nella passata stagione ed un curriculum sicuramente più importante rispetto a Ricciardo. Con tantissimi anni di Serie C, con le maglie di Piacenza, Vicenza, Casertana e Francavilla. Alessandro classe 88 è sicuramente un profilo di assoluto livello per la categoria. Attese novità a stretto giro, magari anche domani nella conferenza stampa prevista. News da Agnone. Domenica 28 è previsto il raduno, lunedì l'inizio della preparazione precampionato che si svolgerà in sede al Civitelle. Ad Agnone è tutto pronto per l'inizio della stagione. Alla base la voglia di riscatto per una stagione, la prossima, che si spera possa cancellare l'amara retrocessione di Vasto. L'ufficialità del ripescaggio dovrebbe arrivare in martedì 30, ma non ci sono dubbi sul rientro in quarta serie. La società è al lavoro per allestire la rosa. Sullo staff tecnico è praticamente tutto fatto. Trainer del posto affiancato da Rullo nella gestione della squadra. Il difensore continuerà a giocare per garantire esperienza al reparto e far crescere i giovani Granata. Sul mercato, primo passo, la conferma di alcuni elementi, come il difensore centrale albanese, il fuori quota Ballerini, il mediano Peic e qualche altro elemento. Di rientro dall'esperienza dal Boiano, il portiere Spadone è pronto a giocarsi un'opportunità, mentre sul fronte under circola il nome dell'ex Campobasso Lobello, tersino classe 99. Cambio di maglia per l'ex Corbo. Come anticipato in questi giorni, il classe 98 ha firmato proprio ieri per i cugini del Vasto Girardi. News dal girone. Partenza del ritiro anche per il Matelica di Battistini. Il nuovo mister intervistato anche da Gianni Bruno nel corso di un'edizione del nostro TG Sport può contare su diverse conferme della squadra, che ha chiuso al secondo posto lo scorso campionato. Oltre alcuni arrivi di altissimo livello, come il difensore Pupeschi, con Battistini già a Perugia e l'Aquila, il centrocampista Rinaldi, classe 93 ex del Campobasso, e gli attaccanti Tomassini, 16 reti a Pineto nello scorso torneo, e Vito Leonetti, ultime due stagioni alla Vastese, con 37 gol sulle spalle. Insomma, Matelica, che al momento è di diritto la favorita del prossimo torneo, ingaggio importante anche per la Vastese, che sarà guidata dal portiere campione del mondo 2006 Marco Amelia. Gli Adriatici si sono assicurati infatti le prestazioni del portentoso attaccante Ribeiro Dos Santos, punta di categorie e di esperienza nello scorso anno, prima con l'Avezzano e poi con il Francavilla, 19 reti totali messe a segno.